Allora, come ti chiami? Anna Rosa. Come ti chiami? Anna Rosa. Anna Rosa? Anna Rosa. Cioè, da dove viene il nome praticamente? La nonna materna si chiamava Anna e la nonna paterna Rosa. Ah, la nonna paterna si chiama Rosa. Sì. E invece tu come ti chiami? Io mi chiamo Nino. Ah, Nino. Sì. Il diminutivo di cosa? No, non è il diminutivo di niente. Praticamente io sono andato sopra l'ambulanza e mentre l'ambulanza correva girava la sirene e faceva Nino, Nino, Nino. Mi hanno dato il nome Nino. Capitano. Ah, 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 ah.